Buongiorno a tutti, oggi parleremo di radiologia endodontica. Ci tengo a precisare che tutte le informazioni prese sono appunto derivanti da testi, da appunti e anche da esperienze cliniche. E questi video sono dedicati ad odontoiatri che vogliono confrontarsi anche a studenti di odontoiatria. Non sono delle vere e proprie lezioni, chiaramente per poter approfondire l'endodontia è necessario utilizzare dei libri, sono necessari dei corsi ed è necessario soprattutto il potenziamento con una parte pratica. Queste informazioni hanno appunto soltanto uno scopo puramente divulgativo e informativo. Non ci sono concetti di diagnosi o piani di trattamento e non intendono sostituire nessun piano di cura. Però ve lo semplicemente a spiegare in maniera semplice alcuni, ma solo alcuni, concetti di endodontica. Per quanto riguarda appunto la radiologia endodontica, rappresenta un ausilio diagnostico molto importante nell'ambito appunto dell'endodonzia. Infatti si eseguono le cosiddette radiografie endorali che non sono altro che delle rappresentazioni bidimensionali di strutture tridimensionali attraverso i raggi X. Quindi noi in un RX endorale, ma anche in un RX OPT, osserveremo semplicemente un'immagine fittizia 2D di una struttura che invece sono appunto i denti e le ossa macellari che sono tridimensionali. Ci sono varie tecniche poi per eseguire l'endorale, la tecnica del cono corto e della bisettrice e la tecnica del cono lungo e dei raggi paralleli. Non mi dilungherò su queste tecniche. Ricordiamoci che è fondamentale l'utilizzo del centratore durante l'esecuzione dell'RX endorale per avere una maggiore precisione e in più bisogna tenersi alla cosiddetta regola di Clark dell'oggetto vestibolare. Infatti in una radiografia angolata di due strutture, ove una è palatina e una è vestibolare, quella vestibolare, cioè quella più vicina alla sorgente radiogena, nella pellicola, apparirà spostata nella stessa direzione in cui vanno i raggi X e quindi è utile per rimuovere problematiche di sovrapposizione di strutture anatomiche. Quindi una regola fondamentale che ogni odontoiatra deve conoscere. In corrispondenza del pallino e delle radiografie c'è una convessità e l'RX si legge in quel senso. Ricordiamoci che l'RX endorale si può seguire in tre proiezioni, la proiezione occlusale, la proiezione bitewing e la proiezione periapicale. Molti pazienti quando si avvicina alla pellicola alla volta del palato con il centratore possono appunto avere fastidi, tra cui anche il riflesso del vomito e quindi per ridurlo nei casi più estremi bisogna prescrivere un antiemetico. Bisognerà mostrarsi al paziente sicuri, veloci e concisi, invitare al paziente a respirare con il naso e a chiudere gli occhi o alcuni utilizzano il protossido d'azoto che riduce il riflesso dell'emesi. Ovviamente non è che tutte le RX che facciamo servono sempre, nel senso, vi spiego. Le RX vanno eseguite e sono fondamentali ma non vanno utilizzate in maniera indiscriminata quindi prima di eseguire un'indagine radiografica bisogna valutare come al solito in medicina tutti i rapporti rischi-benefici e quindi bisognerà eseguire soltanto se i benefici saranno appunto maggiori dei rischi. E quindi molti pazienti saranno scettici a tal riguardo, cioè nell'eseguire molto spesso delle radiografie però bisognerà spiegare al paziente che appunto non esistono posti su pianeta Terra privi di radiazione ovunque ci sono le radiazioni con i raggi cosmici, raggi terrestri addirittura anche andando in aereo la quota di radiazioni che si prende altissima rispetto a una banale endorale. È fondamentale proteggere il paziente con il grembiule di piombo, mettere degli occhiali che schermino appunto le radiazioni, utilizzare il centratore e quindi il fascio deve essere collimato è sconsigliabile comunque eseguire il RX nelle donne in gravidanza. Questo è quello che ho detto prima, le tre proiezioni dell'RX endorale. Passiamo adesso invece a un altro argomento riguardante l'endodonzia, cioè l'anestesia. Anche qui come le radiografie sono fondamentali ma non vanno utilizzate in maniera indiscriminata come dei tranquillanti. Ricordiamo che però c'è una legge, non mi ricordo quale, però esiste una legge che sancisce proprio quello che è il diritto inalienabile del paziente a non soffrire durante un intervento chirurgico, quindi è fondamentale che lui non soffra e per questo motivo è fondamentale eseguire l'anestesia, anche se per esempio nel test di cavitazione non si esegue. In endodonzia comunque ci sono varie tecniche atte al controllo del dolore. Un primo tipo di anestesia che possiamo eseguire è l'anestesia di superficie, che si esegue appunto con il cloruro di etile spray o con l'apis di ghiaccio o con l'anestetico gel ed è un'anestesia che si usa soltanto per ridurre il dolore da parte del paziente quando poi andremo ad infliggere l'ago all'interno della mucosa. In particolare la zona più fastidiosa nell'infissione del lago è proprio il muco periosteo palatino, perché come abbiamo visto in anatomia il muco periosteo palatino che cos'è? È la mucosa del palato strettamente aderente al periosteo. Siccome il periosteo è vascolarizzato e innervato, appena andremo a inserire l'ago ci sarà un dolore abbastanza forte. Alcuni consigliano infatti di schemizzare il palato prima di inserire l'ago per 15 secondi premendo con il manico dello specillo per esempio, oppure facendo questo tipo di anestesia di superficie. L'anestesia plessica invece consiste nell'iniettare l'anestetico nella zona da trattare ed è efficace per la mascella e per la regione anteriore della mandibola dove l'osso è più spugnoso e quindi questo permette il passaggio dell'anestetico a livello dei plessi alveolari dentali. Si esegue con l'ago corto e si posiziona l'ago, si inserisce l'ago in corrispondenza dell'apice del dente da trattare. Può essere eseguito a livello sottomucoso o sottoperiosteo, se si esegue a livello sottoperiosteo l'anestetico appunto viene iniettato a livello del periosteo ed è un po' più doloroso, infatti alcuni consigliano prima di fare un'iniezione sottomucosa per ridurre il dolore e poi quando si vada a fare la seconda iniezione a livello periostale. Poi c'è l'anestesia tronculare, anche chiamata anestesia locoregionale, che è un blocco del nervo che anestetizza tutta la sua area di innervazione e quindi di distribuzione. Quello più utilizzato è proprio il blocco del nervo ovulare inferiore, che è appunto quello più conosciuto, ma ci sono tantissimi altri tipi di anestesie tronculari. Sappiamo un po' tutti come si esegue il blocco del nervo ovulare inferiore. Si esegue appunto prima che esso penetri nel canale mandibolare, cioè a livello della lingula mandibolare, cioè della spina dello spix. Per identificare il punto di penetrazione è necessario individuare con il pollice l'incavo coronoide e l'inclinazione dell'ago che dovremo dare dipenderà dal grado di divergenza della mandibola che deve essere valutato clinicamente. Determina l'anestesia dell'emilingua, dell'emiarcata e dell'emilabbro inferiore. E ci sono due tecniche, la tecnica indiretta e quella diretta. Ovviamente si utilizza l'ago lungo. Si parte dalla posizione controlaterale. Si aspira per appunto capire se è stato preso un vaso. In quel caso chiaramente bisognerà riuscire e rientrare. E bisognerà spostarsi dal lato da anestetizzare una volta in stato l'ago dalla posizione controlaterale. In alcuni casi i pazienti in uscita possono avvertire, diciamo, degli spasmi del massetere o delle sensazioni di soffocamento. La tecnica diretta la vedo fare spesso. E' più semplice e più immediata. Si può anche seguire con l'ago corto. L'on set è minore. In questo tipo di tecnica bisognerà scostare la guancia con il pollice per evidenziare la branca montante della mandibola e iniettare, diciamo, l'ago nell'incavo coronoide. La plessica, tranne se si utilizza l'articaina, non prende a livello mandibolare perché l'osso è compatto e quindi per questo motivo si esegue il blocco del nervo albitero inferiore. Chiaramente ci sono altre varianti di esecuzione del blocco del nervo albitero inferiore. Io ho parlato di tecnica indiretta e diretta. Esistono anche altre due varianti che però non starò a spiegare qui altrimenti, diciamo, tutto questo fuor via da questo video a livello proprio degli argomenti che sono appunto la tecnica di achinosi vazirani e la tecnica di go-gates. Poi c'è anche il blocco del nervo mentoniero a livello del forame mentoniero fra i due premolari inferiori perché molto spesso sono denti difficili da anestetizzare. Un altro tipo di anestesia è l'anestesia infraligamentosa indicata soprattutto nel paziente cardiopatico dove se con la tronculare prendo un vaso posso provocare delle emorragie nel faringe soprattutto nei pazienti che hanno dei disordini della coagulazione. Si utilizzano siringhe a pressione tipo Peripress iniettando anestetico nello spazio paradontale. Ovviamente se il paziente è cardiopatico non andrò ad utilizzare l'adrenalina così come si ha altre patologie sistemiche importanti tra cui anche il diabete. A che cosa serve l'adrenalina? Aumenta il washing time essendo un vaso costrittore ossia aumenta il tempo con cui l'anestetico viene rassorbito dal circolo quindi rimane l'anestetico per più tempo in situ e quindi l'efficacia sarà maggiore. In più rende il campo operatorio diciamo più schemizzato e quindi più esangue. Ovviamente molto spesso nei siti di flogosi non prende l'anestesia perché si ha una reazione di neutralizzazione acido-base. cioè nell'ambiente della flogosi abbiamo un ambiente acido l'anestetico è una base e quindi si crea proprio questa reazione chimica di neutralizzazione acido-base in cui si forma un sale più acqua. L'anestesia intrapulpare ne abbiamo già parlato nel video precedente quando appunto parlavamo di apertura della camera e di possibile riscontro intraoperatorio in un dente con apparente necrosi pulpare di polpa ancora vitale quindi in realtà di polpa in necrobiosi e quindi chiaramente questo tipo di polpa deve essere rimossa per poter continuare ad eseguire il trattamento e non si può rimuovere il d'amblè nel senso bisognerà prima anestesizzarla e quindi si esegue questo tipo di anestesia che è un'efficacia molto alta e deve essere molto veloce perché è molto dolorosa per il paziente. Poi ci sono nuove tecniche come l'anestesia intraossea e l'anestesia diciamo computerizzata però queste sono tecniche già un po' più avanzate diciamo che in tutti i campi della medicina e quindi anche in ambito odontoriatrico anche qui è fondamentale andare a isolare il campo operatorio e per l'endodonzia in odontoriatria per l'endodonzia come si può isolare il campo operatorio? attraverso l'utilizzo di rulli di cotone oppure attraverso l'utilizzo della diga di gomma o della diga liquida ovviamente la migliore è la diga di gomma che diciamo permette di avere diversi vantaggi risparmio dell'uso di una mano evita la bingestis permette di lavorare in campo asciutto riduce il rischio di infezioni in più permette anche una migliore visibilità al clinico riduce i tempi morti perché il paziente non deve sciacquare ogni 5 minuti e conferisce all'operatore una migliore sensibilità tattile perché senza diga il dentista è costretto a stringere gli strumenti per evitare la bingestis e quindi andrà a perdere la sensibilità tattile queste sono le fasi del montaggio della diga diciamo che però ci sono tantissime tecniche di montaggio questa è quella diciamo più semplice se vogliamo però ce ne sono veramente tanti diciamo che detta proprio facile si fora il foglio di lattice della diga con la pinza foradiga poi si applica l'uncino sul foglio e poi diciamo si prende l'uncino con la pinza insieme al foglio e si inserisce nel cavolare del paziente si posiziona l'archetto tendidiga cioè il telaio di Young e basta e bisogna andare sempre a controllare che l'arco dell'uncino sia sempre rivolto mesialmente l'unica controindicazione relativa però all'utilizzo della diga è un paziente claustrofobico che magari appunto non riesce a respirare con il naso esiste anche la diga liquida che è una resina fotopolimerizzabile che si inietta con una siringa se manca il punto di contatto passiamo adesso a vedere diciamo le cavità d'accesso in endodonzia quali sono le funzioni delle cavità d'accesso quelle appunto di rimuovere la polpa di conferire una visione ottimale e di permettere anche un accesso rettilineo degli strumenti l'apertura si segue con una fresa a palla diamantata e poi successivamente con una fresa di bat che taglia lateralmente e non in punta e poi si può anche essere in realtà l'ausilio con gli ultrasuoni molto brevemente per gli incisivi e per i canini fondamentalmente bisognerà appoggiare la fresa perpendicolarmente la superficie palatale sul cingolo e quindi si creerà una cavità ovoidale generalmente qui è presente un canale a volte però possono esserci dei canali laterali poi ci sono invece i premolari superiori dove si creerà una cavità ovoidale qui possiamo avere da due a tre canali per i premolari inferiori invece diciamo che la cavità deve essere ovoidale e qui potremmo avere da uno a tre canali i molari superiori hanno tre radici due vestibolari e una palatale due canali diciamo tre canali volevo dire scusate due vestibolari e una palatale a volte può essere presente il quarto canale mesiopalatale di difficile diciamo riscontro e questo rappresenta una delle più grandi sfide in endodontia bisognerà creare una cavità trapezoidale o triangolare poi ci sono anche questi quarti canali sono difficoltosi proprio appunto per i migliori endodontisti è fondamentale l'uso di ultrasuoni ed è difficile da identificare per i molari invece inferiori praticamente dovremo considerare che ci sono due radici una mesiale e una distale nella radice distale potremmo avere da uno a due canali in quella mesiale da due a tre canali e quindi alle volte ci può essere anche una variante anatomica che è il C-shape cioè il canale AC quindi ci potrebbe essere anche un imbocco canalare unico e basta anche qui la cavità può essere trapezoidale oppure può essere anche appunto triangolare nei terzi molari ovviamente che qui non ho riportato l'anatomia canalare è molto variabile quindi è molto difficile prevedere diciamo in maniera precisa quale sarà l'anatomia endodontica bene con oggi ho finito alla prossima grazie